Salve a tutti ragazzi, sono Luigi di Non Solo Tresci, in diretta da casa mia Bene ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di un altro film di Toby Hooper Perché avevo già intenzione di parlare di questo film molto prima, ma molto prima della sua morte Come appunto volevo parlare prima di Non abite quella porta Guarda caso proprio la fortuna ha voluto, il destino beffato Ha deciso che dovevo parlare di quel motel vicino alla palude a novembre Però ho detto, l'ho sposto adesso per commemorare ancora Toby Hooper Però l'ho già commemorato con il video su Non aprite quella porta Parliamo di questo film, quel motel vicino alla palude Il titolo italiano a me mi accattivò tantissimo quando ero piccolo Perché ho detto, ma poi era appunto, già nella locandina si vedeva che c'era un coccodrillo Io ho detto, ok, lo devo vedere immediatamente, visto che andavo pazzo per questo tipo di film Dove c'era l'animale assassino che uccideva, diciamo, gente a random praticamente Allora, il titolo originale c'è da dire come al solito Noi adattatori italiani non facciamo altro che storpiare titoli addirittura Cambiando proprio sensi, insomma Il titolo originale non è altro che Hidden Alive Cioè divorato vivo, o mangiato vivo, insomma Poi non so perché, l'hanno voluto chiamare così Quel motel vicino alla palude, anche se è la palude, non ce n'è alcuna traccia È proprio, è tipo un piccolo tratto d'acqua dove c'è questo coccodrillo del Nilo Nulla di che, nulla di che Insomma, è un film del 1977 diretto da Toby Hooper Toby Hooper ha deciso di realizzare questo slasher movie Appunto come aveva già fatto con Non aprite quella porta Per appunto sfruttare l'onda di successo del suo film Non aprite quella porta Effettivamente la storia su cui si è basato stavolta è anch'essa vera Perché si tratta di una storia di un certo serial killer che si chiamava Joe Bell Se non sbaglio, o Ball, adesso non ricordo Che praticamente è stato un serial killer che negli anni 30 uccideva per lo più donne Nel suo motel e le dava in pasto i suoi alligatori che erano praticamente sul retro del suo motel Quindi era piuttosto, mamma mia, già così a pensarci, mette i brividi Infatti la storia del film è proprio questa C'è questo psicopatico che è interpretato da Neville Brand Devo dire magistrale, a dire poco magistrale come protagonista Che interpreta questo psicopatico Che appunto a quanto si è capito è un Reduce del Vietnam Che appunto è impazzito E quindi adesso tutti coloro che gli stanno antipatici Che vanno nel motel gli dà impasto al suo coccodrillo Che a quanto pare è un coccodrillo del Nilo Quindi è una persona abbastanza psicopatica in un certo senso Questo personaggio Che ricorda appunto un po' quello di Leatherface Se ne vogliamo O la famiglia di Leatherface Quindi diciamo per sfruttare anche il successo di questo genere Dello slasher movie Ha voluto comunque Toby Hooper O mangiare il suo stesso film Facendo una specie di remake se vogliamo Remake notturno Perché appunto è ambientato tutto di notte questo film appunto E dove vediamo Sì di notte ci sono alcune parti di giorno Però è sempre comunque Sì ci sono qualche parti di giorno se non sbaglio Perché Don Belpock adesso non lo riguardo Comunque vi assicuro che è un film che io ho adorato veramente tantissimo Da quando sono stato piccolo fino ad ora rivedendolo Quindi a me è piaciuto tantissimo Poi tra l'altro c'è la stessa Marilyn Burns Come classica final girl di questi film insomma Troviamo anche Mel Ferrer Che ha partecipato anche in qualche altro film di serie B italiano Tipo Incubo sulla città contaminata Vabbè e Robert England che nel lontano 77 Non si sapeva ancora chi fosse E poi che nell'84 girò insieme a Wes Craven Uno degli horror più ricordati di sempre Cioè Nightmare dal profondo della notte Che poi ovviamente si è susseguito in vari seguiti insomma Quindi il personaggio appunto di Freddy Krueger Interpretato da Robert England Devo dire qua Sì è sfruttato piuttosto bene Perché alla fine diciamo non si conosceva Quindi diciamo ha quasi Ha fatto praticamente esordire Robert England Con questo film Toby Hooper E niente alla fine la storia è essenzialmente semplice Come ho già detto C'è questo psicopatico riduce del vietere Ma che invita a far entrare queste persone Dentro questo motel Che si vede anche un po' piuttosto malandato E che appunto Praticamente gli dà impasto al suo Coccodrillo del Nilo Che secondo me il fatto del Coccodrillo del Nilo Comunque potrebbe essere collegato a un altro film di Toby Hooper Del 2000 Che non è altro che Crocodile Che appunto è uno dei suoi peggiori film Secondo la mia opinione Non solo credo la mia Ma anche di tutti quanti Quindi sicuramente Proprio uno potrebbe essere collegato Perché alla fine si parla di Coccodrilli del Nilo Ed in questo caso proprio Se non sbaglio proprio nei film di Crocodile Si parlava di un Coccodrillo del Nilo Dentro questo motel Quindi probabilmente potrebbe essere Lo stesso Coccodrillo del Nilo Che si è spostato ovviamente negli anni 2000 Quindi sarà nello stesso universo comunque Narrativo Spero Spero che sia una cosa voluta Da Toby Hooper Comunque Niente che c'è da dire su questo film Non c'è tanto da dire su questo film Perché alla fine Ha una regia piuttosto Tranquilla Normale Ordinaria Non ha queste grandissime inquadrature Non è particolarmente Sbarluccicante Come film Perché ecco Non ha questa regia troppo Che si mette troppo in mostra Non c'è questa regia troppo così Ha una regia piuttosto semplice Ordinaria Un po' diciamo Mocumentary Visto che appunto Era praticamente la stessa regia Che sta in Non abite con la porta Quindi Praticamente si tratta Della stessa identica regia Curata comunque Sempre alla perfezione Dal grande Toby Hooper Visto che Era comunque Alle prime armi Comunque per Con la macchina da fresa Comunque Era sempre il suo secondo film Questo E quindi di conseguenza E diciamo Man mano che ha fatto Tanti film Ovviamente Un regista Si Diciamo Diventa esperto E sa benissimo Come prendere in mano Una cinepresa Comunque Devo dire la verità La sceneggiatura È curata alla perfezione Non si dimostra per niente La copia Carbone Alternativa Di non abite con la porta Anche se diciamo In un certo senso Si Sembra Sembra tale Però Devo dire la verità La sceneggiatura È scritta in una maniera Perfetta Con personaggi Veramente carterizzati Al meglio Soprattutto quello Del protagonista Assassino Che magari un po' ricorda Norman Bates Di Psycho Se vogliamo Quindi Che uccide un po' Queste persone E di conseguenza Non la dica È solo la sceneggiatura È curata alla perfezione Per quanto riguarda Dalla fotografia La fotografia È piuttosto Buia Molto buia Molto dark Molto cuba Molto spenta Per rappresentare questa nota Per rappresentare questa Cupezza Per rappresentare anche Per Questo senso di umidità Che appunto Aleggia Nella casa In questo motel Appunto Quindi a dare anche Un senso di Terrore Di paura E di spavento Nello spettatore Che guarda Queste scenografie Tutte spente Tutte sporche Quindi Si respira L'aria Affosa Umida Del motel Tutto sporco Malandato Per quanto riguarda Gli effetti speciali Gli effetti speciali Sanguinolenti Piuttosto Sono abbastanza ben realizzati Purtroppo Unica nota negativa Sono gli effetti speciali Del Coccodrillo Del Nilo Che appunto Si vede Che è proprio Un pupazzone Messo lì Che muove A malapena la bocca Quindi la maggior parte Degli attacchi Devo dire la verità Sono fatti In una maniera Piuttosto Come dire Fatta di espedienti Se vogliamo Quindi appunto Vediamo Tipo La persona che cade in acqua Dopo un po' Vediamo che Sta risalendo E poi ci si vede Tipo La bocca del coccodrillo Che si spalanca E si vede Il getto di sangue E si vede L'inquadratura Dove il coccodrillo Già zanato La persona Se la sta portando Sul fondo Quindi diciamo Non c'è Questa grande cura Delle effetti speciali Per quanto riguarda Del coccodrillo Però comunque Devo ammettere Che il periodo Se si fa Un horror a basso budget Il budget è quello Non è che si può fare Gran che Quindi di conseguenza Si può giustificare Questo Questo piccolo Diciamo Errore se vogliamo Anche se non è proprio Un errore Di conseguenza Posso dire che Il montaggio è curato Alla perfezione Molto lento Molto rilassato Quasi Quasi proprio A essere noi stessi Spettatori Coloro che Guardano e cambiano Inquadratura quasi Perché vogliono cambiare Punto di vista Si vede molto Questa cosa Il ritmo Come ho già detto È abbastanza rapido È un film che dura Neanche un'oretta e mezza Neanche Un'ora e venti Circa Quindi il ritmo È molto rapido Molto veloce Molto serrato Per arrivare giusto al punto Anche se ammetto Che ci sono alcune Alcune scene Che diciamo Forse hanno allungato Un po' troppo il brodo Ma comunque Nulla di che Non ci sono Queste grandi scene Da tagliare Che probabilmente Il film Cioè L'edizione italiana Si vede Che è stata tagliata Perché ci sono le dovute censure Ovviamente Perché ovviamente In Italia Noi dobbiamo sempre fare Questi piccoli Dobbiamo personalizzare Il film In Italia Quindi abbiamo deciso Di tagliare alcune parti Che ci sembrano Piuttosto lente Del film Perché effettivamente Il film È pieno zeppo Di alcune scene Che non sono state Doppiate in italiano Poiché Appunto Sono state Tagliate Nell'edizione italiana E non so Per quale motivo Di conseguenza Il ritmo Come ho già detto Risulta abbastanza Rapido Veloce Il film Scorre che è una bellezza Ve lo potete godere Benissimo Per quanto riguarda Le musiche Sono state curate Dallo stesso Toby Hooper Ma non c'è Questa grande Colonna sonora Proprio Più che altro Quello che si sente Di più Sono le rane C'è questo sottofondo Delle rane Che gracchiano Continua a gracchiare Mentre La bambina Si sente Questa bambina Che piange in continuazione Poiché Spoiler Vi viene Praticamente Divorato il cagnolino Una volta che arriva Al motel Quindi Proprio fortunata Questa bambina E si sente Questo continuo Lamento Questa isteria Da parte Dei protagonisti Che sono stati Intrappolati In questo inferno Di motel Quindi Appunto Si sente Questa isteria Questa pazzia Questa frenesia Di voler scappare Di voler andare via Poi anche il serial killer In caratterizzato Come ho già detto Alla perfezione Poiché Lui con una specie di falce Ammazza la gente E poi le dà impasto Al coccodrillo Quindi Si vede che questo qui Ha dei momenti Comunque di follia Accomunati Comunque Appunto Livelli Di proprio Tranquillità Di quietezza Che Appunto Impazzisce Cioè Da un momento all'altro Impazzisce Praticamente Dei crolli psicologici Pazzeschi Tutto Tutto appunto Alla guardia del Vietnam Appunto Perché lo dice lui stesso Si sente Proprio quando lui Fa questi monologhi Interiori Mentre Parla a se stesso E non Più che altro Allo spettatore Parla a se stesso Si risponde Da solo Addirittura Un po' come appunto Se vogliamo Proprio fare un paragone Un po' come Appunto Psycho Di Hitchcock Insomma La colonna sonora Come ho già detto È abbastanza Anonima Poiché lo stesso Toby Hooper È riuscito comunque A caratterizzare Questa colonna sonora Piuttosto Diciamo Anonima Comunque Molto molto Sconosciuta Che comunque Fa la sua figura Fa spaventare benissimo Lo spettatore Infatti Forse anche Una bella cosa Che il regista Non abbia voluto dare Proprio importanza Alla colonna sonora Ma agli effetti sonori Perché si sente La bambina che piange Il gracchiare Delle rane Continuamente Si sente Poi i ruggiti Del coccodrillo Quindi È proprio veramente Curato alla perfezione Tutto Ogni singolo Ogni singola sequenza In quadratura È curata Veramente alla perfezione Nonostante sia Un film di serie B Fatto con un budget Veramente ridicolo E bassissimo Probabilmente Questo film qua È stato fatto Proprio con Gli incassi Sicuramente Di Non apete con la porta Il primo Proprio quello che ha fatto Toby Hooper Il voto finale Di questo film Non è altro che Un 7,5-8 Circa Perché io pensavo Anche a 7 Però Mettiamo su Mettiamo Così dai 7,7,5-8 Circa questo è il voto Perché Non voglio andare sul sicuro Poiché Il film È abbastanza adattato Ha un budget Veramente ridicolo Però comunque Mi è riuscito a intrattenere L'odore alla foglia Quindi Il voto che gli ho dato Comunque è abbastanza Giustificato Perché appunto Sono dei momenti In cui il film È perfetto E ci sono alcuni momenti Che appunto Dove c'è il coccodrilo Appunto Si vede che è tipo Fatto proprio Con due lire Se vogliamo Quindi alla fine Non è proprio Un film da buttare via Un film che io consiglio Alla visione A chi è appassionato Di questo genere Di film slasher Tipo horror Thriller E niente ragazzi Io non so più che altro Dirvi su questo film Perché il film è questo Insomma Non c'è molto da dire Quindi Non posso far altro Che dirvi Ci vediamo Un'altra prossima recensione Ragazzi Ciao a tutti